Rendere partecipi gli altri dioni che riceviamo da Dio è un modo concreto ed esprime riconoscenza a Dio Padre e possiamo dire che con un'immagine prettamente umana che Dio quando vede che noi dividiamo i suoi doni che abbiamo ricevuto con gli altri fratelli sorride di gioia e di compiacenza. I miei figli si dividono il pane insieme, si vogliono bene. L'iniziativa di Maria è un gesto meraviglioso nell'esprimere riconoscenza al Padre affermando che il figlio non è soltanto della sua madre Maria ma è stato donato per tutti. Durante la vita pubblica di Gesù ella si è per così dire privata della gioia del suo figlio e lo dona e Gesù comincia l'apostolato per le strade della Palestina. un cammino sofferto, un cammino fastidioso, un cammino rifiutato da insultarlo e la mamma offre il figlio suo a questo stato di vita perché sa che il figlio suo è degli altri prima che di se stesso. Maria dona a Dio padre e figlio che aveva ricevuto in tono, dona agli uomini quanto ha di più caro, di più intimo, il suo figlio, il suo Dio. Questa offerta si compie principalmente nell'incarnazione, in quel Natale così bello per noi ma così brutto per Maria. Pensate, girare porta per porta e avere sempre il rifiuto, non c'è posto per lei. Ma perché non c'era posto per lei? Perché per gli altri c'erano, c'erano i posti, ma sicuro che c'erano i posti e per lei non c'erano i posti perché era in una condizione fastidiosa, era una donna incinta che doveva dare alla luce il figlio e in quei giorni di festa nessun albergatore, nessuna famiglia voleva fastidi in casa, era aria di festa e non di preoccupazione. E per lei ci fu il rifiuto. Questo perché? Perché ha amato il figlio, lo ha donato al padre e lo ha donato agli uomini. E quindi peregrinante per le strade della Palestina nel mistero pasquale, passione, morte e risurrezione. Certamente Maria desiderò di essere lei sulla cruce al posto del figlio. Non si può spiegare diversamente. Perché una madre vuole la salvezza del figlio. La madre dice voglio morire io ma non mio figlio. E Maria ha detto questo. Non sta scritto a nessuna parte. Ma è madre, madre sublima, madre che ha avuto la santità di vita da parte di Dio padre e ha desiderato morire lei a posto del suo figlio. Il suo autentico sacrificio è in questa mancata sostituzione. La sua morte in cambio della vita del figlio. Maria dona tutto a se stesso. Da Nazareth al Calvario. Maria non dona soltanto il figlio al padre ma dona a se stesso. A Nazareth all'angelo che porta il messaggio del signore. Il signore risponde sì pur non conoscendo le difficoltà che sarebbero avvenute. Intuento però le difficoltà che sarebbero capitati. Perché lei conosceva lo stile di vita degli ebrei. Lo stile di vita delle donne che davano alla luce un figlio fuori della completezza del matrimonio. In quanto magari sposi ma non conviventi e quinti controlegge e quinti re di morte. Maria sa questa condizione e nonostante questo questo grande dubbio e questo grande pericolo. Maria dice sì all'angelo. Alcuni brani del Vangelo non ci mostrano Maria ricca di privilegi ma una situazione di sofferenza acuta. Che c'è tra me e te o donna? Questa è un'espressione del Vangelo. alle nozze di canna. Maria sa che è venuta a mancare il vino e non vuole che la famiglia abbia a soffrire la vergogna che manca proprio l'elemento della gioia di un matrimonio. Il vino. E dice al figlio non hanno più vino. Sottinteso. Vedi cosa devi fare. E Gesù che dice che cosa ho a fare con te o donna? Tu che c'entri nei fatti miei? Cosa c'entra nella mia missione? Non è ancora l'ora e non puoi pregarmi e supplicarmi perché io anticipi la missione di andare incontro verso colui che soffre. Ecco allora il tormento di Maria, l'offerta che è fatta di Gesù significa già soffrire innanzitempo come Gesù e anche dopo di Gesù. C'è un altro. Gesù si spoglia delle prerogative divine. Maria si spoglia delle prerogative di madre. Gesù si spoglia delle prerogative di madre.